non so se l'assembla che il che ciò schiafferebbe il teatro assomiglia una cosa che fai col teatro mobile il scenario mobile vi palla a manluida non si è mentirosso non si è ladron non si è sossioso e qui potrebbe effettivamente essere una cosa culturale ne approfittano che c'è la spazzatura per portarvi il coso vedete che qua c'è di tutto tutto l'artigianato sono cose davvero carine solo che non ci ho posto nello zaino mi dispiace le cose davvero mignone ma non c'è di place nel sac c'è tutto non so che l'ai rammpli beh l'ai rammpli di frangas che vengono dall'equator all'antarticare e tutto quindi voilà c'è assi facile ma non c'è di place désolato anche per me allora un giro marchè un tour al marchè un giro al mercato e effettivamente visto le terri che sono di una ridità sconvolgente come sempre devono proprio vivere un po' del turismo anche loro perché non è che ci siano poi molte cose è strano perché si secca rapidamente il posto nel senso che a 5 km da qua già c'erano alberi e coltivazioni e in 5 km non c'è più un cazzo sto cercando di capire vorrei comprarmi ma non lo comprerò qua penso il coso del mate allora vediamo se vengono foglie anche quelle non si sa mai pensano venire buone non voglio guardare il vantaggio non è male il mate come storia non vedo foglie cosa che mi sembra abbastanza strana qui c'è il banno non vedo foglie cosa che mi sembra 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 è un lungo lungo viaggio e ho una mochia che si no come un uevo non posso comprare niente e vedo cose di come perché non posso perché non posso mi sembra faccio foto che tenere un buon giorno non vedo foglie cosa che mi sembra è che se faccia bene se faccia bene se faccia bene se faccia bene non vedo foglie cosa che mi sembra c'è un mantocco non so se riescono di erba mate non capire poi se rassemblano tutti ovviamente non vedo stante si trovo un po' la Aisenberg se si sono più l'astra e io mi cubo la barba qui vendono la pasmina e della lena vendono pasmina lana e questa pasmina che vanno comprato in Nepal Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.